In Val Chiavenna, Verceia ha superato indenne il nubifragio che ancora una volta si è abbattuto sulla provincia di Sondrio nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17, che ha invece causato l'interruzione della strada provinciale 1 che collega Campodolcino a Madesimo all'altezza di Isola, interessata proprio da una frana e tuttora chiusa. Mentre è sotto attenta osservazione la Val Genasca e il lago di Novate Mezzola dove l'acqua accumulata ha raggiunto un livello critico che ha già sommerso la spiaggetta presente proprio nel comune interessato dagli smottamenti lunedì 13, dove ora è tornata una parvenza di normalità. Siamo riusciti a pulire tutto grazie all'aiuto dei vigili del fuoco e della protezione civile, due giorni veramente intensi di lavoro proprio dalla mattina alla sera. In futuro si spera che poi la situazione delle acque qua vengono sistemate, se no si vive veramente col terrore tutte le sere e quando c'è un temporale adesso sicuramente sarà un incubo. E poi abbiamo sulle montagne che adesso stiamo mettendo a posto un po' tutto ma speriamo che il vetro là si lascia un po' in pace. In cinque giorni 15 squadre e 75 uomini dei vigili del fuoco si sono alternati ininterrottamente nel paese della Valle del Mera dove continua il lavoro delle unità Movimento Terra coordinate dal responsabile regionale Ermanno Maranga. Noi abbiamo liberato le strade che portano verso l'alto, che era rimasto isolato una frazione, abbiamo liberato dalle frane, abbiamo liberato tutti i corsi d'acqua, tutti i pozzetti. Questo è il lavoro primario per mettere in sicurezza quello che è lo scorrimento delle acque qui a Via Cea. Oggi, spiega il sindaco Flavio Oreggioni, la situazione resta monitorata e si contano i danni. Da una prima ricognizione, una prima stima, possiamo parlare di quantomeno mezzo milione di euro considerando sia i danni alla parte pubblica che privata. Per quanto riguarda invece la sicurezza dei versanti? Possiamo dire che la situazione è sotto controllo. Abbiamo monitorato tutte quelle che sono le valli che hanno esondato durante la serata di lunedì e le abbiamo pulite, abbiamo rimosso tutto il materiale dalle strade per garantire una condizione minima di sicurezza. L'intervento comunque non finisce qui, prosegue già in queste ore. Superata l'ultima allerta meteo lanciata dalla protezione civile, quando potrebbero rientrare in casa le persone evacuate? Oltre che dalle condizioni meteo, la valutazione circa la possibilità di un loro rientro dipenderà dalle condizioni di staticità del tornante e soprattutto dei muretti sottostanti. Quindi le valutazioni da parte dei nostri tecnici verranno fatte nelle prossime ore in maniera comunque costante e assidua per capire qual è l'evoluzione di queste criticità.